Circa 1200 tonnellate di bombe, una città ridotta in briciole. Sono passati 73 anni dal bombardamento anglo-americano che, il 15 marzo 1944, rase completamente al suolo la città di Cassino. Un mese prima, la stessa sorte toccò alla millenaria Abbazia Benedettina. La morte ed il silenzio avvolsero una città bella, elegante e ricca di storia, una città che però si rialzò, nonostante quelle ferite. Oggi, a commemorare quell'evento in Piazza De Gasperi, c'erano soprattutto tanti giovani. È a loro che doveva arrivare il messaggio più forte, un messaggio di pace. Non solo ragazzi, però. A commemorare le tante vittime, civili e militari, di quella distruzione apocalittica, c'erano il sindaco e tutta l'amministrazione d'Alessandro, il prefetto Emilia Zarrilli, il questore Santarelli, il comandante della Compagnia dei Carabinieri de Luca, il vescovo Antonazzo, il rettore Betta ed i rappresentanti dell'Abbazia di Monte Cassino. Dopo la deposizione della corona dall'oro, il sindaco D'Alessandro ci ha tenuto a sottolineare i motivi di questo momento, l'importanza del ricordo. Il primo cittadino ha parlato di una città sacrario comune, di Cassino come un pezzo di storia e di patria in cui ogni italiano si può riconoscere. D'Alessandro ha parlato dell'importanza del valore della bandiera che non deve e non può sfociare i nazionalismi faziosi che tante tragedie hanno arrecato ai popoli. L'appello finale è stato rivolto ai ragazzi, chiedendo loro di riflettere sul senso della pace, ricordando che questa si costruisce ogni giorno, proprio come Cassino, dalle sue macerie, grazie alla pace, è rinata, ripartendo dalle sue radici. Grazie Grazie